Allora, dimmi tutto, qual è il problema? Ma io sono venuto a trovarla perché sostanzialmente ho un forte prurito la testa già da un po' di tempo e mi hanno detto, guarda, vatti a far vedere che magari hai qualche dermatite o qualcosa. Sì, ci sono, c'è forfora... E un pochino sì. E volevo sapere, in generale hai mai fatto un controllo della pelle in toto per i nei? No, devo dire di no, è la prima volta che... Ma hai nei, hai... Sì, parecchi. Ah sì? Ti fai vedere un attimo le braccia? Certo. Eh, effettivamente ne hai un po' di nei, eh? Benissimo, allora senz'altro, quindi guardiamo questo problema della forfora, del prurito in testa e poi guardiamo anche i nei. Sembrerà una banalità ma le braccia dicono molto. Il numero di nei sulle braccia è proporzionale ovviamente al numero totale di nei su tutto il corpo. Per cui vale la regola dei 20 nei. Se ci sono più di 20 nei sulle braccia è consigliabile fare un controllo total body. Allora, diamo un'occhiata. Sì, effettivamente un po' di neucci ce li hai, eh? Quando ci sono molti nei sulle braccia è facile che ce ne siano anche molti sul resto del corpo, quindi è un segno che mi fa capire che abbiamo necessità di fare un controllo. In generale i tuoi nei sono a posto, hanno delle lievi irregolarità. Ce n'è uno in particolare che forse si discosta un pochino e queste irregolarità sono un po' più pronunciate. Quindi secondo me questo neo decideremo di asportarlo. Allora, veniamo al punto centrale del problema. Qual è la procedura che noi in genere eseguiamo quando decidiamo di asportare una lesione? Innanzitutto, quello che dobbiamo chiarire subito è quali sono i motivi per cui si asporta una lesione. Il primo motivo è perché pensiamo possa essere fortemente un melanoma. Il secondo motivo è perché non possiamo escludere che non sia un melanoma. Innanzitutto, il secondo motivo è quello che si asporta una lezione.